Ultimi sondaggi, il centro-destra verso il 40% e la sinistra in frantumi. Scende in pista Grasso, presidente del Senato, e Renzi trema, perché se Grasso va al 10% con la sua sinistra a sinistra del PD, matematicamente Renzi va sotto il 20% e perde tutti i collegi uninominali dell'Italia appenninica dell'Italia rossa. Per questa ragione il centro-destra deve stare insieme, unito, con un programma. Benvenga il congresso di Giorgia Meloni, straordinaria leader di un centro-destra rinnovato. Benvenga la forza della Lega in tutto il paese, non solo al nord. E benvenga la leadership di Forza Italia, che secondo tutti i sondaggi si conferma primo partito del centro-destra verso il 16-17%. Attendiamo la formalizzazione del quarto-quinto petalo, petalo cattolico popolare e petalo liberale, che possono dare il di più per vincere tranquillamente e per governare altrettanto tranquillamente. I risultati che potremmo ottenere sono assolutamente rassicuranti, e cioè la maggioranza assoluta alla Camera e al Senato. Perché tra collegi proporzionali e collegi maggioritari, sulla base dei sondaggi già del mese di dicembre, si possono raggiungere più dei 315 seggi alla Camera e maggioranza assoluta anche al Senato. Quindi alle anime belle dei vari giornali che mettono le mani avanti dicendo che non ci sarà nessuna governabilità per il dopo, dico guardate i sondaggi, guardate i numeri, guardate quello che sta succedendo a sinistra soprattutto, e vedrete un centrodestra vincente nel proporzionale oltre il 43-44% e nel maggioritario attorno ai due terzi.